Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città, buon lunedì 2 novembre, una giornata ancora contrassegnata dal brutto tempo e dalla pioggia, tra poco vedremo che cosa ci aspetta per il resto di questo lunedì, intanto ascoltiamo le notizie di viabilità e lo facciamo come sempre con Walter Gerbi dalla centrale operativa dei Vigili Urbani, Walter a te. Buon martedì 2 novembre, le notizie di oggi, si effettuano controlli velocità sui corsi Gorosteto, Giulio Cesare, Peschiera, Unità d'Italia, controllo mobilità sulle vie Bava, Vanchiglia, Napione, Madama Cristina, Valperga, Caluso, Via e Piazza Santa Giulia, ancora aperti con orario prolungato i cimiteri cittadini, attiva ancora oggi la linea speciale 68, alle 15.30 il cimitero monumentale Santa Messa, ufficiata da sua eminenza reverendissima al cardinale di Torino Severino Poletto, apertura al pubblico del Saclario del Martinetto, con orario 9.12 e 14.30-17, in piazza d'armi alle 11.30, commemorazione caduti di Nassiria, dalle 14.30 fronte assessorato lavoro Regione Piemonte, presidio lavoratori De Tommaso, Pinifaria di Gugliasco, in via Cernaia riprese cinematografici del film Ti amo troppo, corteo dei lavoratori Dittagorla, impresa di pulizia per la GTT, con partenza alle 9 da Porta Susa per via Cernaia, via Pietromicca, prefettura con presidio, divieto di transito in via Angronia, tra via Rei e Corso Montecucco e in via San Dalmazzo, tra via Cernaia e via Bertola, per lavori edili. Dall'1 alle 3, la consueta chiusura del sottopasso Repubblica Porta Palazzo per operazioni di pulizia meccanizzata. Vi informiamo che il servizio ascensore Mole Antonelliana è sospeso da oggi al 22 novembre per revisione periodica. La metropolitana è gestita sino alle ore 21, poi sostituita dall'autobus 101 per lavori nel tratto Porta Nuova di Gotto. E' tutto, buona giornata, buon viaggio! Bene, grazie Walter per le notizie di viabilità. Allora noi passiamo a vedere la situazione del tempo, è stato un weekend molto complicato dal punto di vista meteorologico, la pioggia ha iniziato a farsi strada nella giornata di sabato, non ci ha più abbandonato e non ci sta ancora abbandonando, perché a dire il vero in questo momento in città scappa ancora qualche goccia di pioggia, in questo momento abbiamo una temperatura intorno ai 15 gradi circa, percepita leggermente superiore, intorno ai 15 gradi e mezzo, vuol dire che la temperatura si è alzata comunque nel corso del fine settimana, se vi ricordate venerdì ci eravamo lasciati con temperatura intorno agli 8 gradi, quindi si è alzata di parecchio, abbiamo un'umidità ovviamente molto alta. Per quanto riguarda quest'oggi le previsioni ci danno ancora pioggia per tutta quanta la mattinata, poi il cielo dovrebbe passare alla condizione di coperto, la pioggia dovrebbe smettere, perché in realtà le previsioni, i dati ci dicono che domani dovrebbe essere una bella giornata di sole anche con un clima abbastanza piacevole, staremo ovviamente a vedere, comunque la pioggia dovrebbe interrompersi nella giornata di oggi a partire dal pomeriggio. Passiamo a vedere gli appuntamenti istituzionali previsti per oggi, ovviamente una giornata contrassegnata dalla ricorrenza dei defunti, questa mattina al cimitero monumentale il vice sindaco sarà presente alla cerimonia di commemorazione, poi alle ore 11 invece in corso 4 novembre al monumento ai caduti di Nassieria sarà presente il sindaco per rendere omaggio ai militari caduti in Italia e all'estero con la deposizione di una corona da loro da parte della città, le 15 poi ancora al cimitero monumentale ci sarà la messa di commemorazione dei defunti ufficiata dal cardinale Poletto, come avete già sentito anche da Walter Gelbi e infine questa sera alle 18 in via Accademia Albertina, all'Accademia Albertina l'assessore Alfieri sarà presente all'inaugurazione della mostra Nuovi Arrivi. Passiamo alle notizie di Torino Click, l'agenzia quotidiana della città che trovate in formato pdf sulla nostra home page la prima notizia che abbiamo scelto è quella relativa alla rilevazione dei prezzi al consumo sul mese di ottobre appena trascorso, ebbene abbiamo registrato rispetto al mese precedente al mese di settembre un lievissimo aumento 0,1% nella città di Torino, rispetto invece all'ottobre del 2009 siamo a un più 1,7%, crescono le spese per quanto riguarda alcol e tabacchi, crescono soprattutto ma è abbastanza normale perché siamo in arrivo verso il Natale, giochi e giocattoli che crescono del 10,4%, scendono invece apparecchiature e materiali telefonici, trovate la rilevazione nel dettaglio a partire proprio dall'articolo di Torino Click. Un'ultima cosa la accennava Walter Gerbi nelle sue notizie di viabilità, ve ne diamo conto anche noi proprio a partire da Torino Click, l'ascensore della Molla Antonelliano, l'ascensore panoramico che porta al tempietto a 85 metri d'altezza per vedere il panorama della città, è interrotto, interrompe il servizio da oggi fino al 22 di novembre e poi dal 9 al 21 di dicembre per dei lavori di manutenzione, una manutenzione ovviamente necessaria, si è scelto di fare così per rendere più breve il periodo di manutenzione, l'ascensore riaprirà interamente a partire dal 22 dicembre ovviamente alla vigilia delle vacanze di Natale. Adesso passiamo sulla nostra home page, andiamo a vedere la notizia che abbiamo scelto per voi questa mattina, si tratta dell'ultima puntata di Torino Web News, il nostro settimanale culturale che si è recato la scorsa settimana alla View Conference, trovate un'intervista anche al creatore di Kung Fu Panda, della nuovissima edizione di Kung Fu Panda che andrà nelle sale per questo Natale, una intervista che trovate come detto all'interno della puntata, raggiungibile a partire dalla notizia. Ora un'occhiata al traffico in città con le telecamere del Consorzio 5T, qui siamo in Corso Agnelli, Angolo Corso Cosenza, in direzione est su Corso Cosenza, vedete c'è un traffico abbastanza sostenuto in questo momento. Ci spostiamo poi in Corso Moncalieri all'altezza del Ponte Isabella, qui piove, lo potete vedere chiaramente dalla situazione dell'asfalto, traffico sul ponte ma tutto sommato abbastanza scorrevole, Piazzale Caio Mari invece zona sud, direzione via Norato-Vigliani, qui non abbiamo particolari problemi tranne qualche auto al semaforo, infine la Rotonda Maroncella in direzione di Corso Trieste, qui sembra non esserci pioggia al momento però la situazione del traffico è come tutte le mattine un po' complicata. Bene, tutto anche per questa mattina, grazie a Mario Parena per la messa in onda, a voi l'augurio di una buona giornata.